condividi schermo 1 allora tanto per cominciare mi invito a chiudere il microfono quando non partite c'è qualcuno con il microfono aperto quindi per cominciare ci sono domande suggerimenti richieste avete o se avete avuto il tempo di guardare di sperimentare mi piacerebbe sapere le vostre impressioni insomma se avesse provato a fare qualcosa mi sembra mi sembra di no quindi direi ci sono diciamo le lezioni le avete viste su teaching stiamo rimettendo una sossa per le stesse quindi potete anche guardare quelle del 2021 però invece di di seguirle o almeno per fare forse un po' diverse vorrei provare a sviluppare insieme a voi un po' di modelli partendo da zero così che non prende proprio di dimestichezza e quindi non so se avete già dei suggerimenti da proporre altrimenti vado avanti su quello che che avevo pensato insomma non vedo grandi suggerimenti quindi va bene vi propongo di di realizzare il che si chiama il game of life non so se avete mai sentito parlare vi faccio vedere se uno va anche a cercare su wikipedia è questo il gioco della vita come ne vedete è un'automa cellulare ovvero è in qualche maniera proprio l'ideale per net logo perché in questo caso ci sono ogni cella evolve in parallelo prendendo guardando quanto vale quanto è il suo valore quanto è il valore di quegli vicini c'è anche tra i modelli di diciamo di base però lo rifacciamo da zero e la cosa interessante appunto è che dopo una fase iniziale vedrete è molto caotica forma dei pattern diciamo di vario tipo in particolare ci sono pattern fissi come sono come possa essere questi quadratini o anche altri altri tipi di pattern e ci ci sono anche dei pattern e mobili come appunto questi qui che si chiamano poi hanno dato un nome a tutti questi oggetti che si chiamano glider alianti ci sono si possa costruire cannone ad alianti che regolarmente sparano questi oggetti e questo qui diciamo è un tra virgolette gioco nato dalla mente di un matematico che scriveva sulle scienze insomma su scientific american e chiaramente negli anni fine anni sessanta inizio anni settanta questo qui venivamo giocato non sul computer ma su delle vere scacchiere nel senso che uno aveva tutti questi pallini doveva marcare quelli che rimanevano fissi quelli che morivano e quelli che nascevano e poi aggiornare allora le regole le regole sono molto semplici ogni cellettina può stare in due valori o zero o uno diciamo zero è morta uno è viva e la regola è una cella viva rimane viva se è circondata da due o tre celle vive circondata vuol dire negli otto vicini quindi questi blocchi stanno vivi perché ognuno di loro è circondata da tre vicini e una cella morta quindi zero diventa viva solo se ci contano da tre vicini questi sono numeri un po' magici poi se si volete si può fare anche la versione in cui uno può giocare con diversi di questi numeri e vedere cosa succede quindi questo è quanto dopo di che uno può inizializzare a caso oppure a qualche altra maniera quindi lo possiamo realizzare sia usando le patch sia usando le tartole con le tartole abbiamo la possibilità di farlo un pochino più bellino cioè con le patch viene diciamo in questa maniera con le tartole si può anche metterci una diciamo delle figurine sopra o cambiare più facilmente colore va bene mi torna ci sono domande fatevi sentire ogni tanto così non sono solo allora di che cosa avremmo bisogno beh sicuramente avremmo bisogno di un bottone setup quasi tutti diciamo le cose net logo funzionano così e poi ci avremo bisogno di un bottone go possiamo farlo anzi mettiamocene due uno lo facciamo un vero e proprio go quindi lo faremo andare forever mentre quell'altro è sempre la stessa funzione però la chiameremo step come vedete posso avere un bottone che fa una o più funzioni anche se c'è una nuova differente e così che fa una volta sola insomma già che abbiamo aperto questa interfaccia ci noti che i bottoni possono essere ovvero questa serie di istruzioni che sono messe qui essere diciamo lanciate o come observer normalmente è così però possono essere anche le tartos le patch e le link che è un po come dire se io qui comincio con ask patches fate qualche cosa e faccio solo questo qui tanto vale che faccia le istruzioni che avrei fatto dentro indirizzandomi direttamente alle patches oppure quindi se un bottone fa comincia con ask turtles fai qualcosa e basta allora tanto vale fare un bottone che è direttamente orientato ad esempio orientato alle tartos orientato alle tartol invece che uno orientato all'observer un'altra cosa si può anche disabilitarlo in maniera che non sia proviamolo eh attivo fino a che uno non piggia setup essenzialmente setup è quello che fa ripartire i tics e un'altra cosa è che gli si può associare anche un action key così che quando pigio S faccio step e quando pigio Go G lancio il Go poi cominciamo con il setup il suo obiettivo è quello di inizializzare il mio sistema e la mettiamo a caso quindi mettiamo anche una slide chiamata Initial Density possiamo anche farlo in percentuale per far vedere che si può anche mettere un'unità di misura quindi cominciamo a fare il setup allora, to setup ask patches e gli devo dire di fare qualche cosa a seconda di questa densità ora in cui posso lavorare sia con una variabile cioè per esempio posso mettere una variabile che dice sei viva, sei morta oppure direttamente con il colore io preferisco lavorare con le variabili in maniera poi da essere libero di decidere di mettere colori differenti quindi patches own qui si mette l'elenco delle variabili delle patches per esempio uno può mettere una variabile che è vera se la patch è viva e falsa se la patch è molta quindi uno può mettere set living i fals value guardate posso fare in due maniere anche qui lo rifarò si può usare o la funzione falsa value che prende un untest per esempio random float1 minore initial density random float100 mi da un numero casuale tra 0 e strettamente minore di 100 lo confronto con initial density che avendolo fatto in percentuale mi va ovviamente tra 0 e 100 se è minore no veramente essendo random float dato che mi dà un numero distribuito uniformemente ottengo che la probabilità che sia minore della densità iniziale ha un numero insomma è proprio uguale a questo numero se pensate di rappresentarlo su una retta initial density sta da qualche parte la probabilità di andare a cascare prima mettiamolo qui se pensate che io becco a caso questa sbarra no? con questo numero appunto random float per cento di 100 la probabilità di beccare qui è proprio il 74% e la probabilità di beccare qui è il 26% quindi che cosa faccio qui se con questa probabilità è true e con la probabilità complementare è false avrei potuto anche fare i contrari se scrive if else random float 100 minore così set leaving true altrimenti set leaving holds sono esattamente equivalenti uno sceglie uno o sceglie l'altro ok dopodiché mi mettiamo in faccia una funzione e poi verrà chiamata anche da dall'update e ricordo oppure se è una via facciamo intanto così tu ricordo poi dopo vedere se fare qualcosa di più efficiente ask patches if else per esempio oppure set facciamo sempre questa cosa set picolor if else value living cioè se la propria variabile living è vera non lo fa che ne so black altrimenti white ecco lo devo mettere questo fine ok posso controllare in effetti quando tutte le volte faccio setup a seconda della densità iniziale se no più o meno neri o più o meno bianchi come questa sera già visto anche la volta scorsa a questo punto devo fare la funzione go la funzione go diciamo devo chiedere alle alle patch conta quante alle patch mettiamo tutte le patch conta quante patch vive abbiamo nel vicinato e e poi facci insomma fai qualche cosa il fatto è che questo fai qualche cosa devo stare attento se voglio una dinamica strettamente parallela devo fare due step perché anche se dal codice uno non se ne rende conto ma questo comando quando faccio ask patch in realtà viene mandato a una patch dopo l'altra in maniera sequenziale infatti se qui lo metto molto lento e rifaccio il setup facciamo un pochino più veloce vediamolo pure si vedete che il comando viene mandato in maniera sequenziale alle varie patch chiaramente nuovamente non lo vedo quindi mi terrò una devo usare un'altra variabile in cui mi calcolo se questa cella sarà viva per esempio diciamo future non ne so se sarà viva o se sarà morta oppure will will live o se stagione sono i nomi ovviamente che mi pare quindi qui in realtà in setup bisogna sempre cominciare con un clear all e con un reset x allora to go cosa faccio ask patches allora a questo punto io devo chiedergli quante ce ne sono vive tra gli otto vicini per farlo uso la funzione neighbor neighbors solo che neighbors mi riporta un agent set che contiene gli otto no patches neighbors o i quattro quindi esattamente quello che mi serve quindi posso fare if count metto una parentesi che si vede meglio neighbors with living cosa fa vediamoci sempre che netlog agisce prendendolo insieme e poi manipolando quindi in questo caso prende l'insieme degli otto vicini l'operatore with applica questo reporter a ogni elemento dell'insieme se questo reporter torna vero lo tiene altrimenti lo scarta quindi living ovviamente vale vero o falso perché l'ho messo io quindi tutti quelli che hanno living uguale a vero vengono mantenuti count vi conta di quanti sono e quindi questo qui mi ritorna 0 1 2 3 4 a secondo di quante celle vive ci sono nei vicini sarà meglio metterle in una variabile contemporanea let n count quindi questo qui è number of living neighbors a questo punto set will live if else value allora quindi possiamo avere living uguale false che è la stessa cosa di dire not living and and n and n equals to or n equals 3 bene quindi o è morta living equals false e ha due o tre vicini or living o è viva and n equals 3 mi torna? quindi questo qui true false giusto poi domandate se c'è qualcosa che non torna allora questa è una possibilità in realtà vedete che n uguale a 3 in realtà è comune a tutte e due quindi quando n uguale a 3 sia che sia living che non living è uguale è uguale per cui questo qui posso forse semplificarlo un po' dicendo if ma qui forse mancava una parentesi vediamo un po' per bene and questo finisce qui questo finisce qui allora potrei anche dire invece n equal 3 or living equal false and n equal 2 e quindi ora metto le parentesi non servono possiamo fare quindi se n uguale a 3 in ogni caso oppure è morta e n no sto n no questo sbagliato tutto questo era così era n uguale a 3 qui and n equal 2 or n equal 3 quindi sopravvive se è circondata da 2 o 3 celle vive e nasce solo se è circondata da 3 celle vive che posso semplificare dicendo o ha 3 celle vive oppure è già viva e è circondata da 2 celle vive è un pochino più un po' più conciso e ok quindi prima faccio questo ciclo cioè ognuno di loro calcola will leave dopo di che posso ask patches set set leaving will leave e poi ricolor è un po' se qualcosa che non torna con le parentesi questo qui ok ora torno poi dopo guarderemo di cambiare anche questo ricolor andiamo un po' se intanto funziona setup vedete step era inattivo fino a quando non ho fatto setup è dovuto al fatto che ho messo disable until click start quindi uno può metterlo per per sicurezza insomma dopodiché vedete se cominciano ad una densità troppo alta muoiono mentre invece ecco qui si cominciano a formare queste forme quelle immobili vengono chiamate natura morta still life mentre poi ogni tanto occasionalmente da soli si formano oggetti mobili dipende anche da quanto è grande il reticolo questi qui oscillanti vengono chiamati traffic lights perché i vecchi semafori americani erano fatti proprio con delle sbarre che come quelle del tram quelle che stanno in posizione verticale orizzontale per dire fermi o vai quindi chiaramente a seconda della realizzazione magari lo faremo su dimensioni un po' più grandi si formano varie cose anzi proviamolo subito proviamo a mettere invece che 16 50 per 50 ok per questo diciamo viene chiamato life perché ha una certa vaga di somiglianza con cose vive appunto vedete che ogni tanto si vedono apparire dei glider che si muovono nel sistema vediamo se se ne vede qualche d'uno no in questo momento non ne vedo nessuno eccolo qua uno che era qui chiaramente ora eccolo qua ecco un bel glider che si sta a proprio fin quando verso ha portato diciamo l'attività qua se poi andate a vedere su su internet troverete che si possono costruire delle cose pazzesche con life compreso starships cioè oggetti tipo glider ma estremamente grandi c'è tutto appunto un angelopedia dedicata a una spaceship tutto quello si può fare possono costruire oggetti costruire complicati oggetti che usando in maniera in maniera appropriata gli glider possono costruire qualsiasi cosa in particolare si può costruire una macchina di curing quindi un computer universale usando usando qualche parte ci sarà usando tutti questi glider come strumenti di comunicazione però vabbè torniamo al nostro net logo e magari possiamo provare a farlo un pochino più carino per esempio possiamo mettere qui prima di far diventare living will live cioè non chiamando ricoro ma mettendoci qui un codice di colore che ne so in nero quelle che sono vive e rimangono vive in rosso quelle appena morte quindi if leaving equal false and and will leave leave equal true set i color red siamo unifel se così scusate pronto pronto se sta per morire possiamo mettere in grigio quindi if if else leaving è true and will leave equal false set the color gray altrimenti se purtroppo non c'è quello che in altri linguaggi si chiamano switch cioè quello che permette di fare più casi quindi se invece living true and will live true set the color black infine else set the color white e dopodiché lo metto living e will live quindi in questa maniera uno ha forse un'idea non so se più o meno chiara di quello che sta succedendo cioè Eurovede in qualche maniera anche una specie di di coda di come evolve la situazione mettiamolo da metto poi e poi dopo e questo è life turtles va bene allora ci sono domande su questo tutto chiaro il codice vuoi tornare un attimo ecco sì il codice ci vedete bene dovete lo faccio più grande ditevi intanto posso condividervi aspettate fatemi editare il sito così che posso questo così vi metto direttamente 2020 però non sono sul drive giusto è un po' comunque era forse qui complex world fishing allora era questo vediamo se riesco a inserirsi drive 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 condivisi condivisi con me se riuscivo a inserire però ovviamente faccio dopo quando nella pausa via andiamo avanti quindi questo vi torna si funziona perfetto allora a questo punto proviamo a fare lo stesso però con le con le tart ovvero voglio fare stessamente la stessa cosa quindi lo salviamo come save save as life no no scusate anzi contrario questo lo salviamo come sbagliato a dargli nome save as life patches questo è con le patches e poi riprendiamo life turtles allora quindi in questo caso qui diciamo più o meno tutto uguale solo che queste qui saranno delle variabili cioè anzi no via lo dobbiamo fare in un'altra maniera allora intanto cominciare to setup quindi questa volta faccio nascere le turtle dalle patch quindi la prima cosa che faccio è chiedo sempre alle patch se no quindi questa volta basta un if se con una certa probabilità quindi una certa probabilità genera una turtle quindi sprout 1 e quindi posso dare alcuni comandi ora quindi posso dire tipo set color che ne so yellow set shape circle credo che dovrebbe bastare questo in quanto se ora vado di qua qualche cosa che non torna se fatemi cancellare un po' di roba se fatemi cancellare tutto tanto deve rifare da zero se no abbiamo anche recolor se no mi dà gli errori e non mi fa fare niente va bene qui vengono generate un certo numero di turtle a caso potrei anche vediamo se non c'avevo il dicionario con le turtle c'è anche la possibilità di fare set default shape no in modo che uno non debba ogni volta che crea una turtle rifarla però insomma diciamo cambia poco quindi questo fine andiamoci per creare le turtle se lo fa l'observer è create turtle se lo fa una patch è sprout che vuol dire in grosso modo germoglia se lo fa un'altra turtle è hatch cioè cova ok to go allora di nuovo io devo marcare in qualche maniera cioè posso far marcare diciamo sì prima dove nasceranno altre turtle perché le turtle nascono appunto altre pedine solo se ho due o tre vicini e se è morta e poi marcare quelle che dovranno morire quindi probabilmente conviene usare sempre le patches quindi facciamo patches own più o meno le stesse cose di prima living e will mettiamo will leave uguale a prima quindi perché sì non vedrei come fare tutto usando solo le turtle perché per farle morire ancora ancora lo posso fare basta che dica le turtle che sono circondate da quindi sono vive e sono circondate da meno di due o più di tre vicini di marcarsi e poi di morire la volta prossima però per farle nascere devo per forza usare le patches quindi tanto male tanto vale solo che così mi viene molto simile a quello di prima però d'altra parte c'è poco da fare quindi posso fare ask patch diciamo direi che posso tranquillamente copiarlo da quello di prima diciamo che questo lo salvo e lo copio da quello di prima domande riprendo questo fate quindi copiare il go così più o meno è simile vogliamo un po' di cambiarlo quindi allora qui chiaramente qui si può dire può fare in varie maniere qui qui si può dire chiedo ai vicini che sono i patches che hanno più di più di almeno una almeno una turtle sopra vedete qui abbiamo turtle here no riporta un agent set che contiene tutte le turtle sulla su quello sulla patch insomma che stanno lì quindi with count turtles here maggiore uguale a 1 in realtà sarà sempre uguale a 1 quindi questi qui sono i vicini che hanno almeno una turtle sopra no e quindi li conto questa è una possibilità un'altra possibilità è count posso fare anche potrei anche fare turtles in radius qualcosa tipo radice quadrata di 2 solo che in questa maniera non sono solo quelle dei vicini ma sono compresa la la turtles che già c'è oppure posso semplicemente usare la variabile living come si è fatto prima perché tanto conviene sempre metterla qui set living true e quindi posso tranquillamente usare la variabile living delle file access quindi farlo esattamente come come si era fatto prima questo diciamo a vostra scelta facciamo una di queste tanto per dire che uso le le tartole in qualche maniera che non sono semplicemente disegni a posto dopo di che cambio un po' qui facciamo che lo facciamo solo con i due valori quindi se living facciamo uguale a true if if not any tartoles here quindi gli dico se no scusate we will live se rimarrà viva o diventerà viva se c'è già una tartole here non devo fare niente se non c'è nessuna tartole here sprout 1 e poi metto uguale set piccolo no set color yellow set set shape circle no e questo qui a posto e altrimenti se non vivrà if living quindi se invece non vivrà ma era viva libra vivrà viva ask turtles here die in realtà potevo farlo lo stesso tanto non mi succede nulla se domando a un insieme vuoto di morire chiaramente non morirà e poi vi lascio questo qui set living will live mi torna che cosa sto facendo questo lo lascio perché mi serve presentare per registrare quello che succederà turtless check not ho trovato any che c'è con interrogativo quindi gli ho dato di any come funziona prende un insieme e ritorna falso se l'insieme è vuoto ovvero se invece l'insieme non è vuoto chiaramente not lo cambia quindi beh si legge anche più o meno il significato in inglese allora dopodiché eh c'è qualcosa che forse è solo nella velocità guardiamo un po' la dinamica è quella giusta se si vuole vedete si vede un po' la dinamica interna al solito si può fare se uno vuole veramente vederlo in maniera parallela no display e infine display eh anzi già che ci siamo facciamo anche eh tic facciamo avanzare il contatore e quindi questa qui eh la dinamica che abbiamo visto prima però questa volta fatta con le patch con le tartor che essenzialmente ci servono solo per avere i palli di tonno invece che i quadrati eh ma che si sono usate in maniera molto più molto diversa da questo va bene sono ciao francesco bene ritornato eh ci sono domande non è che sia stato creato siano state utilizzate in maniera molto creativa eh però eh allora io chiaramente posso farvi vedere altri altri giochetti in particolare eh sia come come giochi sia come progetti aspetto anche voi eh se ci avete qualche idea di qualche progetto da sviluppare se no intanto vi potrei far vedere eh un aspetto di eh di netlogo quando uno vuole per esempio quando uno vuole fare un un esperimento quantitativo ehm probabilmente dovrà far girare l'esperimento molte volte per esempio se noi riprendiamo sembrava si fosse fatto nella lezione uno ehm anche questo qui l'infection no? setup go e si andava e si vedeva no? cosa succedeva o anche vabbè ehm quindi a al variare della densità iniziale mi aspetto di vedere un certo numero di se questo si è visto la volta scorsa allora se vogliamo che adesso lo voglio fare in maniera un po' quantitativa ovvero voglio farlo girare ehm varie volte per vari valori della densità allora chiaramente lo posso fare a mano ma è un po' falloso ma ehm per fortuna abbiamo una cosa che si chiama behavior space quindi posso fare un nuovo esperimento eh che lo posso chiamare infection ehm allora quindi qui posso mettere una serie di variabili di nome di variabili e di valori in particolare nella lista dei valori oppure come vedete posso dire di incremento quindi posso dire che density deve variare che ne so da 0.2 eh fino a 1 diciamo 1 in step di 0.01 questo è il nostro giochetto quante ripetizioni devo fare diciamo 10 ripetizioni per ogni ehm per ognuno di questo e cos'è che devo contare devo contare count patches per esempio with pcolor equal to red quindi voglio avere no un grafico alla fine voglio fare dove dove si veda al variare della densità l'andamento diciamo della dimensione finale dell'infezione questo qui a seconda di come è fatto qui lo fare misure a ogni step no in realtà mi interessa solamente misurarlo alla fine il comando per iniziare il setup il comando per finire è go si può mettere una condizione di stop ma questo mi sembra che si fermi da solo per cui lo posso lasciare andare così e poi si può fare una serie di comandi ma qui non ci sono non ci servono vogliamo un po' quindi questo qui è il nostro oggetto non c'è bisogno di fermarlo perché si ferma da solo abbiamo già messo la condizione di stop nel codice per cui posso farlo girare e posso decidere di avere un'uscita come una tabella o come un tabellore esenzialmente dipende se lo mettiamo in orizzontale o in verticale posso decidere se vederlo oppure no di solito e poi lui automaticamente sfrutta i vari core del processore del computer su cui sta lavorando per lanciarli in parallelo questo è comodo quindi guardiamo un po' cosa succede possiamo mettiamolo pure qui nella lezione 1 quindi mi fa questi due capelloni adesso lui sta girando con la propria propria chiaramente all'inizio sono tutti facili poi dopo quando comincia a diventare a partire l'infezione si rallenta e vedete sta facendo 600 700 800 ok ha finito e a questo punto posso andare a prendermi cosa è successo allora lui ha fatto questi due quindi li apro con google spread ct o excel o quello che voglio quindi questa è la visione che secondo me è quasi illeggibile mentre questa che la chava table è la stessa solo che sono in colonna l'unico problema è che lì diciamo sono disordinati quindi dopodiché dobbiamo usare probabilmente un po' di excel oppure farsi uno script in maniera da rimetterli in sesto per esempio potrei riordinarli sulla colonna B così che vi vengono tutti in ordine crescente di densità una parte non sono in ordine perché vedete qualcuno l'ha fatto dopo probabilmente ci ha messo di più quindi data non mi ricordo mai come si fa edit sort forse sono anche avvitato a data sort column la colonna border sort on values eccolo qua density ok ok in questa maniera ce l'ho tutti e poi probabilmente bisogna mettere un po' di formula in modo da avere una media ma quindi uno può prendere uguale o in diretta qualche formula strana tipo per dire quindi faccio in diretta di rho rho meno 8 forse la notazione riga colonna rho meno 8 mi fa 0 qui quindi poi lo moltiplico per 10 funziona per 10 più quindi più 8 direi colonna 2 virgola polsa non mi fanno mai mette polso trucco avere riga e riga 8 più 8 colonna colonna 2 polso non di garma voglio che sia una cosa forse forse in questa versione inglese c'è una virgola ok in questa maniera vedete prendo diciamo salta di 10 in 10 cioè questo si riferisce a questa qui e così via e quindi posso poi usare una formula simile per fare average di riga è questo qui colonna 2 due punti riga and qualcosa di simile più qualcosa di simile più 10 mi immagino and colonna però la colonna non è più là 2 ma la 3 2 3 4 e qualcosa che non di garba vediamo se devo average ci si fa vedere la formula quindi riga 8 colonna 4 riga 18 colonna 4 insieme da 8 a 18 quindi per cominciare è più 17 riga 8 colonna 4 che è questo riga 17 colonna 4 quindi 0 2 e quindi allora non sarà average sarà min min ecco che devo mettere pols con indiret indiret qualcosa virgola sono riusciti ok quindi 2.4 potrebbe anche starci quindi se io tiro giù fino a cosa ha detto fino a 1 mi sembrava 0.8 direi fino a qui questo va bene potrebbe esserci qua giù ci abbiamo gli ultimi sono 1100 10.201 sono tutti uguali l'ultimo dovrebbe essere 10.201 sì e quindi finalmente si può fare insert chart eh vabbè e questo è se volete il risultato è il nostro esperimento che quindi vedete per una densità insomma c'è una transizione per una densità intorno a 0.6 chiaramente uno dovrebbe ripeterlo per varie varie salse purtroppo non c'è una maniera per fare queste media a me non mi sembra di averla trovata per cui eh ve la ve la ve la metto lì anche come xls nel caso che vi serva poi per analizzare qualche dato questo si può portare un po' in su d'accordo che si può anche farlo per fare un minimo di esperimenti numerici e soprattutto ricordatevi che c'è anche per per linux quindi se per caso avete un server è una macchina più o meno potente con linux o con windows lo dicevo con linux perché tutto questo poi si può anche farlo girare da riga di comando quindi anche se uno c'è solo l'accesso al terminale una volta che si è sviluppato il suo modello come gli piace magari su windows o su macintosh come sto facendo io poi dopo uno può per esempio trasferirlo su una macchina linux e dire vai gira per i prossimi venti giorni facendo tutti gli esperimenti va bene direi che abbiamo visto un po' di cose a questo punto dire facciamo un po' di pausa ma intanto mi piacerebbe che voi mi mandaste magari in chat delle proposte di qualche qualcosa che vi piace qualche idea che vi piacerebbe sviluppare con Netlogo e così lo facciamo insieme io non credo che sia la cosa migliore quindi vi lascio dieci minuti pensateci un momento vado a prendermi un caffè e vado si può rivedere la come fare generale simulazioni insieme sì allora si fa così si va su tools behavior space dopodiché uno può fare una nuova simulazione essenzialmente così dove qui si mette all'inizio essenzialmente una serie di cioè di solito sono le slider poi uno può mettere quello che gli pare quindi il nome della variabile e poi o i valori da prendere direttamente come lista oppure una sottolista dove c'è start incremento e valore finale se ci fossero più slider uno chiaramente ne mette di più poi può mettere anche altre variabili eh intendiamoci non è detto che uno debba per forza mettere quello delle slider di solito visto che si comanda tutto dall'interfaccia qui lui per default ci mette le variabili che fanno parte degli slider o dei o delle degli switch e così poi si dice per ognuno di questi valori quante ripetizioni fare e se 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 girarle in ordine sequenziale oppure no questa chiaramente dipende se uno nel suo codice nel setup ha messo un clear all se qui chiama il setup è chiaramente è uguale girarle in ordine sequenziale oppure no se uno invece per esempio potrebbe incrementalmente aggiungere qualche cosa al modello allora non dovrebbe probabilmente che fa setup solo all'inizio e e poi incrementa quindi uno per caso potrebbe essere importante farlo in ordine sequenziale in ordine sequenziale per ogni ripetizione quindi l'uscita può essere sempre mescolata poi si dice che cosa qual è la misura che deve fare alla fine del delle simulazioni se fare le misure a ogni step oppure no questo diciamo essenzialmente conta sulla condizione di stop no uno la condizione di stop la può mettere direttamente nel codice come si è fatto noi per cui se non ci sono più nuove patch da infettare fermati oppure la mette qui in questo caso probabilmente forse gli conviene servire misurare ogni step poi dopo vedete ci sono possibilità di mettere un comando iniziale un comando di go un comando di stop un comando finale che appunto serve essenzialmente per fare questo cioè se uno lo lo manda in combinazione alla fine di ogni run può mandare un comando che faccia qualche cosa e poi lo stop se si vuole mettere un tempo limite dopo mille passi in ogni caso ammazzali oppure oppure no allora qui mi propongono degenerazione dei coni in seguito alla morte dei bastoncelli vicini però bisognerebbe un po' elaborare nel senso che chi mi fa morire i bastoncelli qualcosa la gente esterno a caso e come è la degenerazione dei coni una mutazione una mutazione una mutazione guardiamo puoi anche attivare se vuoi la telecamera così anche la cosa è più facile dicevo la mutazione quindi è intrinseca vuol dire che i coni hanno che ne so un certo tempo di vita a un certo punto muoiono in seguito di questa mutazione hanno una microfono lo scrivi pure eh per esempio uno può dire appunto eh i coni si esatto muoiono per una mutazione a una certa età e questa affetta i coni vicini e come come li mettiamo in un cono circondato da un certo numero di bastoncelli oppure bastoncelli più sulla periferia e i coni più al centro diciamo si può fare tutto ovviamente va bene bisogna dopo ci pensiamo anche altre proposte vanno bene dopo si provano a fare provano a fare se no ve lo propongo una io certo vado a prendermi qualcosa da bere si spede tra dieci minuti eh tra cinque a presto Grazie a tutti. 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 Ogni patch... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. colorati. Grazie a tutti. Quindi... to... con... che... quindi... poi... ask... è il massimo... che... che... o... ... ... ... mettere... ... 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 uno può... di nuovo... 0... ... 0... 1... E poi possiamo mettere, per quelli che hanno una certa mutazione, una death probability o degeneration probability. No? Per unità di tempo, i passaggi ne muoiono tutti perché tutti hanno la mutazione, poi non lo facciamo più in generale, poi basta mettere mutation probability uguale a 100 e funziona anche per questo, tanto per far qualcosa. E quindi diciamo che quelli che hanno questa mutazione, tanto per fare una cosa, hanno una certa probabilità di morte per unità di tempo, ma tanto per fare, ripeto, qualche cosa. Quindi, quando facciamo il go, to go, cosa facciamo? Anzi, qui facciamo chiaramente un, aspetta, qui l'ho messo di posto sbagliato. Qui facciamo un reset tics e quindi quando facciamo go, cosa chiediamo? Chiediamo ai bastoncelli di valutare se morire o non morire. In realtà, quindi li mettiamo poi marcati in due colori differenti se muoiono o se non sono morti, quindi facciamo che rods own died, quindi questi possono stare vivi o morti, quindi qui mettiamo set died holes. E anche qui sono tutti vivi. E forse possiamo mettere anche iconi con on degenerated e quindi rimettiamo che non sono degenerati. Ok, quindi, to go, allora, quindi facciamo ask rods if, se stanno ancora vivi, died to holes. And random float 1 minore, no scar, and, perdono, c'è anche un'altra cosa, mutated, che anche questo bisogna, quindi set mutated random float 1 minore, di come sarebbe chiamato mutation probability, questo lo mettiamo anche qui. Ora, queste due cose qui, facciamo, è sempre una brutta abitudine quella di ripetere il codice due volte, quindi facciamo una nuova procedura. procedura, to create new rod, new rod, ci mettiamo tutta questa roba qui, perché un po' di sicuro uno, quando ripete il codice, c'è sicuramente new rod. quindi qui pure, diciamo, new rod, perché è una brutta abitudine, perché poi sicuramente uno a un certo punto lo cambia da una parte, lo cambia da quell'altra e non se lo ritrova più. quindi conviene sempre, diciamo, quando c'è il codice ripetuto, mettere una funzione o una procedura dove ci si mette tutte le cose. allora, quindi, devo dire, se sono false, quindi se non sono ancora morti, e, and, mutated, and random float, mi death probability, quindi, se non sono morti, diciamo. se non sono morti, diciamo, se sono mutati e con una certa probabilità, muoiono. quindi, set, da, ed, true, set, 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 set color, mettiamo gray. dopodiché lo mandiamo ask cons allora quindi se non sono degenerati chiaramente la stessa cosa dire died uguale a false qui potevo mettere forse not died che forse è anche più chiaro se non sono degenerati and count the rows in radius qui diciamo un'altra variabile potrebbe essere quant'è il raggio per cui un cono un bastoncello morto può affettare i vicini quindi un'altra variabile però mettiamo uno che è la stessa cosa a dire che guarda i più altro vicini cons però questo qui pure potrebbe diventare anzi lo possiamo anche fare subito mettiamolo qua mettiamo slider rod radius 0 a 5 in step punto 0 1 e count the rods in radius with died quindi nuovo solite giochetti sugli insiemi quindi rods sono tutti rods in radius queste qui sono l'insieme che stanno in un certo raggio all'intorno del cono e di questo insieme lo prendo se qui posso fare un any e prendo quelli che sono morti e poi dopo di che vado a vedere se questo insieme non è vuoto allora set generated true ecco set color ora si può andare a giocare con i colori perché se noi si va a vedere i codici dei colori no se noi aumentiamo di un paio di valori un colore diventa più chiaro quindi possiamo provare a sommarci 1 2 3 per esempio questo che funziona set color color più 3 e ritorna come dovrebbero venire più chiari dopo guardiamo se questo lo mettiamo in lesson 2 rod corns ho scritto male probabilità ok ok vediamo allora voglio un po il setup si verrà chiaramente mi manca il bottone go anche questo possiamo farne due versioni intanto una facciamo con il nome di step qui convera anche mettere un reset tic stick allora qui abbiamo raggio questo lo lasciamo così condensi t o meno mutation probability mettiamolo qualcosa intermedio per vedere cosa succede death probability mettiamolo piuttosto piccolo se no insomma si vede poi che nulla anzi questa death probability probabilmente possiamo mettere anche un massimo più piccolo se no non si vede niente interessante e il raggio di influenza possiamo mettere uno se no tutti influenzano tutto ok dopo di che si vede apparire vedete alcune mutazioni e questi sono i diciamo i bastoncelli con i degenerati quindi chiaramente a un certo punto muoiono tutto e dopodiché si può diciamo tanto per mettere qualche plot per esempio qui facciamo di diet rods e qui facciamo plot count rods with diet equal true probabilmente non verrebbe mettere una percentuale quindi facciamo e abbiamo già allora lo calcoliamo quindi facciamo divided by initial rods e se lo sarrabbierà quindi facciamo qui dove è un codice qua quindi qui possiamo fare globals initial rods e initial cones anche se si potrebbe ricavare uno da quell'altro però quindi qui all'inizio del setup possiamo fare 7 initial rods count rods e set initial cones count cones in modo che abbiamo due variabili con cui normalizzare e quindi questo qui lo possiamo mettere qua possiamo aggiungere un altro plot per per iconi quindi degenerate cones e qui facciamo plot count cones with degenerate basta in realtà basta mettere degenerate anche qui basterebbe mettere died uguale true è la stessa cosa che mettere semplicemente died però possiamo lasciarlo diviso diviso initial cones ovvero questo possiamo mettere così per leggerlo meglio count cones quindi degenerate è la stessa cosa e guardiamo se setup e qui abbiamo diciamo la progressione della malattia a questo punto possiamo mettere un bottone dove cliccare costantemente e questo si conviene mettere dunque y max è uguale a 1 max possiamo lasciarlo 10 max deve essere uguale a 1 sennò non si vede nulla e qui abbiamo diciamo una curva poi chiaramente a questo punto uno può dire aspetta una mutazione sono sono tutti quindi questa arriva a 1 mentre non tutti i coni diventano 1 perché difende un po da quanto quanti bastoncelli quanti bastoncelli sono circondati chiaramente dal raggio di interazione tra i road influence radius chiaramente se lo metto di più poi a un certo punto mi vogliono tutti quindi questi sono chiaramente non che sia un modello particolarmente veritiero dell'occhio ma insomma diciamo tanto per far vedere come si può utilizzare come dimostratore ritorna sì certo poi debola deve essere te che mi dici facciamo mettiamo questo facciamo che state io non lo so come funzionano effettivamente non pensavo nemmeno ai bastoncelli potessero affettare i coni invece evidentemente sì va bene o diciamo una se volete si può provare a fare un modello evolutivo per quanto non che non usa in realtà lo spazio ma insomma se volete c'è un famoso modello che è sempre piaciuto che è quello che spiega l'emergenza evolutiva della senescenza del salmo catastrofica del salmone ovvero la domanda è perché i salmoni diversamente da altri tipi di pesce per esempio sono semelpari cioè mangiano 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 tutta la vita senza deporre uova risalgono i fiumi depongono le uova e muoiono quindi ci sono varie spiegazioni eh una spiegazione è legata proprio alla competizione per quanto non sia cioè la prima legata alla competizione dice ah lo fa così perché depone un milione di uova e quindi butta tutta la sua energia nel deporre queste uova dopodiché una seconda perché fa un milione di uova fa un milione di uova perché il cugino ne fa 999 milioni e quindi diciamo l'idea che quello è il massimo delle uova si riescano a produrre se non ne produrrebbero di più e cosa che ovviamente non fanno solo i salmoni ma fanno tanti altri animali mi sembra sia la strategia K o un certo linguaggio di per le popolazioni ehm la diciamo l'altra cosa è che uno eh in molti animali per esempio nella nella mantide religiosa i maschi no si si fanno mangiare dalle femmine dopo averle eh inseminate eh diciamo la spiegazione classica è perché se uno non ha grandi speranze di potersi accoppiare un'altra volta mentre invece in questa maniera dà eh un vantaggio alla femmina per riuscire a produrre più uova i geni preferiscono selezionano eh un altro tipo di comportamento e quindi il maschio si fa mangiare tanto diciamo quello doveva fare l'ha fatto ehm allora però non è questo il modello cioè il modello diciamo divertente è il seguente supponiamo che i salmoni possano ehm vivere ma diciamo fino a diciotto anni venti anni e qualcosa del genere solo che eh possono accumulare le mutazioni che se che vengono attivate eh alla loro età quindi c'hanno un vettore eh che dice eh un vettore indicizzato dagli anni di vita che dice eh a che età possono ehm riprodurre eh possono attivare una certa mutazione e mettiamo quando raggiungono le mutazione attivate muoiono va bene la seconda variabile invece dice a che età possono riprodursi nessuno gli impone di riprodursi dopo ehm dopo eh quell'età eh di non di non riprodursi però a partire da quell'età possono riprodursi bene quindi il modello è molto semplice ci abbiamo proviamo a vedere di farlo non ho mai fatto eh eh quindi facciamo uno nuovo quindi supponiamo che abbiamo una slide che ci dice max eh eh mettiamolo fino a una cosa ragionevole fino a 30 un'altra slide che ci dice la eh reproduction age e un'altra slide che ci dice ehm number eh no deadly mutation deadly mutation number facciamo fin mettiamo 10 massimo reproduction age ovviamente non c'è molto senso che sia più grande del max age quindi mettiamo anche qui 30 va bene quindi ehm parliamo un po' cosa succede dopo di che ehm mettiamoci anche una slide per dire numero iniziale di salmoni ma questo non dovrebbe contare molto n e poi un bottone setup allora l'idea è che quando pigio setup creo n salmoni chiaramente gli darò la forma di un pesce ogni salmone viene inizializzato con un vettore lungo max age e tre elementi di questo vettore max age vengono messi a uno tutti gli altri a zero quindi il codice è qua diciamo se quindi tu eh cosa facciamo quindi turtles own ehm genome age direi dovrebbe bastare eh quindi turtles ehm genome age direi dovrebbe bastare ehm quindi turtles ehm ehm to setup ehm create turtles n e ehm new salmon quando poi lo mettiamo a posto ehm questo è il comando iniziale in modo poi lo possiamo chiamare anche dopo ehm direi poi facciamo anche fare set xy random x core random y core ok gli risparpia se la parliamo a caso tanto per quindi new salmon possiamo fare set xy random 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 xy N Values, non vi ho fatto mai la sintassi, andiamo a cercarla, N Values, N Values alla quanti e a quanto, quindi N Values 0 Max Age, va bene, poi dobbiamo prendere, and off, però mi sa che and off non vale per le liste, va bene, quindi facciamo repeat, c'è un'extension che si chiama random, proprio che fa così, ma ora facciamo così, facciamo let, perché allora diciamo, vi è di fare repeat, repeat deadly mutation number, questo qui, repeat deadly mutation number, gli dico let i random max age, quindi gli prendi un numero tra 0 e max age, e poi faccio, metto in questo genoma, questo, un 1 al posto dello 0, quindi set genome, replace item i genome 1, solo che così, non, ah no, scusate, sì, non, non mi va bene, perché uno potrebbe avere anche più mutazioni di questo qui, oppure, o un meno, il problema è che qui, facciamo a sciarglian tutti un certo numero di mutazioni, anzi no, facciamo che le mutazioni sono solo, cioè uno parte, facciamo che anche parte con 0 mutazioni, facciamo così, molto più semplice, facciamo che parte con 0 mutazioni, ma ogni volta che si riproduce, i figlioli hanno una mutazione, sempre deleteria, non si cambiano mai, quindi set age, e qui lo metto ora random max age, in modo da non farli partire tutti con la stessa, ah sì, no, qui no, se, con new salmon set age 0, no, ecco, devo farlo una cosa diversa, con new salmon, questo lo mettiamo qua, dopo dobbiamo usare una cosa diversa con new salmon, diciamo che per ora intanto facciamo così, quindi, setup, 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 set genome, non è, and values, values, size report, ah, al contrario, 0, setup, vabbè, questi sono i nostri pesci, d'accordo? Allora, a questo punto, to go, cosa faccio? Ask turtles, allora, che prima cosa, mettono set age, age più uno, questo è facile, poi, se a quell'età hanno attivato più mutazioni di quelle mortali, muoiono, quindi, if sum, se mi ricordasse di tutto, allora, prendo la lista da 0 alla sua età, quindi, sub list di genoma, immagina sia così, sub list genoma 0 age, bene, quindi, questa è la, il genoma attivato fino a quel momento, 0, sum, dovrebbe farmi la somma di una lista, quindi, se questo qui, è maggiore di deadly mutation number, che è facile, die, se non muoiono, quindi, facciamoci con i fels, per essere più chiari, altrimenti, if age greater than reproduction age, reproduction age, allora, loro ne fanno un altro, sprout, uno, dovrebbero farne dieci, ora facciamone uno, per non incasinare troppo, ah, chiaramente il figliolo, c'è la stessa, la stessa shape, fish, lo faccio smuovere un po', tanto, ci hanno, vengono creati con, con l'orientamento a casa, forward 0.2, però dopo qui ne mettiamo meno, eh, su quel coso, tanto, questo, fanno un po', dopodiché, set genome, sto dicendo, al, al nuovo nato, genome, of myself, e quindi copia il genome, chiaramente, sono, eh, non c'è riproduzione sessuale, c'è anche la versione con riproduzione sessuale, ora facciamo quella più veloce, set genome, set age, ah no, dopodiché metto, una mutazione a caso, in più, set, eh, anzi, qui facciamo che, eh, replace, item, di genome, of myself, eh, mi sembra che, replace item, prendo prima l'indice, dunque, replace item, index, list value, quindi, replace item, di random, max age, di genome, of myself, 1, quindi, ti dico, prendi un sito a caso, cioè, copia il genoma, prendi il genoma, di mio genoma, scegli un sito a caso, e mi dice un 1, che per me vuol dire mutazione, set age 0, d'accordo? ok, ma intanto, a volte, si fa fare un po' di misure, intanto, reproduction age, ok, no, è hatch, hatch 1, ok, facciamo che, eh, non ho messo, probabilmente, un clear all, clear all, reset, fix, qua ci mettiamo, il solito, di che mi dimentico sempre, ok, hm, allora, setup, questo possiamo farlo, anche un po' di una più grande, per vederci meglio, possiamo anche metterci, un po' meno, comunque, eh, mettiamo, un classico, go, chiamato step, input sublist, vediamo, c'è qualche errore, dunque, sum, sublist, genome, age, ah, sì, chiaramente, dovrò anche mettere, che muoiano, eh, quindi, age, facciamo il contrario, if, age, greater than, max, age, or, quindi, chiaramente, se arrivano al massimo dell'età, se no, ovviamente, eh, la faccenda non torna, o, hanno accumulato abbastanza mutazioni, e, questo, chiamiamolo, salmon, muoiono, vediamo un po', se così, quindi, intanto, all'inizio ne moriranno, vediamo se qualcuno arriva a riprodursi, no, eh, no, perché, reproduction age è troppo, era 50, nessuno ci arriva, mettiamo che si è 10, quindi, ecco, e cominciano, qualcuno comincia a riprodursi, si può anche, fare un forward 0,5, così che, forse si vede un po' di più, la colonia, sono più batterie, che, anzi, facciamo, set, heading, random, 360, così, si sparpagliano, è un po' più vicino al progenitore, eh, e, dopodiché dobbiamo mettere anche un altro ingrediente, eh, ovviamente qui abbiamo che o crescono esponenzialmente oppure muoiono, quindi mettiamo anche un, che devono trovarsi una casa, quindi, facciamo un, quindi, devono avere uno spazio vitale che per noi è una cella, è una cella, quindi, eh, ask one of patches, with not any turtles here, quindi, solo se c'è una cella con libera, possono riprodursi, in questo caso è sprout, uno, a questo punto questo qui non mi serve più, cosa ho fatto di male, ask one of, eh sì, ask, sprout one, if age, cosa c'è che non gli arma, with, with, ah sì, questo deve essere un reporter, ok, Apache, can access that without, which part, um, ah, perché il genoma of myself, ask turtle, quindi, facciamo che, let, temp, genoma, mi salvo, il genoma della turtle, che sta facendo la richiesta, in una variabile temporanea, e quindi, qui metto solo, temp, e che ora ha capito, il problema è che, myself è il caller, cioè quello che è chiamata, questa volta quello che chiama è la patch, non è più la turtle, perché la turtle chiama la patch, e la patch genera un'altra turtle, ma myself in questo caso si riferiva alla patch, non alla turtle, quindi, ok, qui, una domanda, scusa, ma con il let, definisce automatamente la, una variabile temporanea, perché io mi dice che non è stata definita, c'è qualche problema di, ha già messo un let? Sì, è uguale a questo? Sì, sì, no, let definisce, qualche problema nelle installazioni, no, no, con controllato apposta, ma vabbè, sono strano, non so, prova a copiare qui in chat, no, aspettami di controllare, comunque sì, allora qui mi dà un errore, che dunque, ask, aspetta l'importo, bianaget, eh, bug, qui, ask, mettiamoci via, speravo che lo facesse, any, 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 patches, with not, turtle, here, eh, perché mi dà un errore, perché diciamo, fai una domanda, un insieme vuoto, eh, vabbè, setup, step, va bene, quindi chiaramente si riempie tutto, c'è ancora qualche d'uno che non è sul, sulla griglia, strano, eh, vabbè, che non è che ci interessi più di tanto, è ovvio che si riempie tutta la griglia, ma diciamo, questo è solo per, per limitarli, ora quello che però mi interessa è di fare un istogramma del genoma di questi pesci, quindi la domanda è dove si accumulano le mutazioni in questi pesci? ehm, però vedo che è già l'ora, quindi chi vuole andare può andare, eh, chiaramente mantengo la registrazione, e così vi metto, eh, questo istogramma. Ora non si può usare, bene, quindi, non si può usare l'istogramma, perché c'è un, una funzione che fa istogramma, istogramma e list, però, ehm, non, questo qui fa istogramma di una lista, cioè, passandogli, eh, una lista di numeri, lui va a contare quante volte accadono, e così via. Invece, eh, io userei reduce, reduce, eh, prende una lista, eh, e un reporter, e cosa fa? Applica il reporter, che può essere, esplicitato, o essere semplicemente un più o un meno, ai primi due elementi della lista, rimpiazza questi due elementi con il risultato, e poi, eh, lo riapplica al risultato, no? Che per esempio, eh, se io devo, gli faccio fare appunto, reduce più 1, 2, 3, lui fa 1 più 2, 3, e lo mette, eh, e lo mette nel, 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 al posto di 1 più 2, poi prende il 3 e ci soma questo 1 più 2, d'accordo? Quindi, io, 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 vorrei quindi sommare tutti gli elementi delle liste, quindi, questo lo faccio con un map, quindi map, che non mi ricordo mai come funziona, dovrebbe essere reporter lista 1, lista 2, sì, quindi map, eh, forse basta più, 1, 2, 3, con, eh, 1, 2, 3, per esempio, lui mi fa il primo con il primo, il secondo con il secondo, e il terzo con il stesso, quindi, questo è quello che mi serve per sommare, vettorialmente, due liste, e quindi, a questo punto dovrebbe essere qua, io posso fare un let, m, reduce, i map, più, eh, no, reduce, che cosa? x, x, y, in, mappe, più, x, y, di, che cosa? genome, of, turtles, turtles, allora, vediamo che cosa vuol dire, genome of turtles, mi dà, una lista, questo fa anche qui, genome, 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 of, of, turtles, hm, chiamato genome, ah, ma perché era la partita, perché c'è un problema qui, ma, ah, sì, perché se, mappe c'è più di una lista, le mettono tra parentesi, ok, allora, quindi faccio setup, genome of turtles, è una lista, di liste, dove chiaramente ogni elemento è il genoma, il genome del pesce, quindi, due cose fa, prende, i primi due genomi, li applica a questo qui, che fanno la somma vettoriale, li applica, e lo rimetto al suo posto, poi prende il terzo, e così via, dovrei avere la somma di tutti, già che ci sono, la normalizzo, quindi faccio, let, let, m, map, che cosa, map, x, basta mettere così, in, x diviso, let, c, count, turtles, x diviso c, dm, e infine, la plotto, quindi, for each, for each, anche qui dovrebbe essere uguale, for each, x, no, for each, x in, qualche cosa, no, prima si mette la lista, for each, eh, forse basta mettere gli plot, for each m, plot, probabilmente non bisogna fare, clear all plots, e, asset m, perché le ho già definite, plot, allora mettiamo, x, in plot, x, lascio qui, intanto io controllo, il fatto che cominciare bisogna fare un plot, qui, metterò, eh, come barra, in modo che venga tipo, questo gramma, levo questo qui, a parte che il comando, ovviamente, posso metterlo qui, ma sono, e, ah, bisognerà al solito mettere il massimo, mettiamolo a punto 2, e, perché ci sono, mettiamocene un po' meno di questi, eh, di questi pesci, perché si vede un po' più velocemente, ora non so se funziona, perché, questo comportamento, bene, questo, non mi è molto chiaro, perché in realtà si dovrebbe vedere, un accumulo, delle mutazioni, oltre, l'età di riproduzione, però, non capisco perché sono rimasti, questi picchi, a, e, probabilmente, perché si è fissato, in tutta la popolazione, si è fissato questo mutante, quindi, non può, mai, scomparire, mutazioni delle ferie, che, non è strano, perché sono tante, ah, perché, quanto se ne è messo? Di sette, quindi, uno, due, tre, potrebbero essere, ci sono, tre mutazioni delle ferie, che si sono fissate, in tutta la, in tutta la popolazione, però vedete, poi, l'accumulo è qui, se io metto il numero di mutazioni, delle ferie piccolo, dovrebbe esserci meno probabilità, che si fissino, nella popolazione, anche se una si è sempre fissata, e, in tutta, non è che si possono fissare, tanto facilmente, perché, quando ce ne sono tre, muoiono, perché, veramente, sono quattro, riguardiamo un po' nel codice, mi sa che ho messo maggiore, invece di maggiore uguale, infatti, se metto maggiore uguale, forse è più chiaro, è uguale, veramente basta cambiarlo di uno, però mi sembra meglio, che quelle siano le mutazioni mortali, quindi, quello che osservo, è che si possono anche fissare, nella popolazione, delle, mutazioni deleterie, ma poi tutte le altre, devono per forza, accumularci, oltre il limite, dell'età riproduttiva, e quindi, diciamo, la cosa interessante, è che, nonostante non ce l'abbia messo io, per nessuno dei motivi detto prima, il fatto che ci siano delle mutazioni deleterie, fa sì che tutti si riproducono, essenzialmente, una sola volta, qui, appena arrivati all'età, di riproduzione, e poi muoiono, si può rivedere, le impostazioni del grafico, sì, è qui, allora, vediamo poi, io cosa ho fatto, beh, prima l'ho cancellato tutto, poi ho detto, prendo, la lista, delle liste dei genomi, ci applico Reduce, che cosa fa? Prende due, i primi due della lista, e ci applica questo qui, che non fa altro che fare la somma, invece, mappa, che cosa fa? Per le due liste, prende elemento per elemento, e gli rimpiazza, con quelle che viene fuori da questo, reporter qui, quindi fa la somma vettoriale, e quindi, piano piano, sommo tutti, cioè, posso anche vedere qua, tanto che ve lo lascio qui, posso fare qui, quindi se io faccio, show, radius, x, y, in, map, più, x, y, di, che cosa? Genome, of, turtles, ah, sì, che devo mettere la mappa, sempre, tra parentesi, non l'imentico, sempre, eh, questo qui mi fa la somma, alla fine mi riporta una sola lista, che è la somma, del valore dei geni, degli alleli, di questa popolazione, vabbè, poi qui non faccio altro che dividerlo per il numero delle turtles, cioè, di nuovo con un map, e poi, for each, c'è una sintassi simile, eh, prende, una lista e per ognuna di queste qui applica questa operazione, for each è quasi uguale a map, solo che map è un reporter, e for each è una procedura, chiaramente qui, diciamo, questo, questo qui è assolutamente inutile, è chiusa solo per avere, eh, un vincolo sul numero di, di pesci, torna, sì, grazie, va bene, ci rivediamo, allora, eh, per il prossimo, e, eh, appunto, se avete suggerimenti, mandatemi così, poi se no si fa, chiaramente qualche altra cosa insieme, la vedo, se riesco, eh, ma ci abbiamo ancora due di lezioni, e quindi, mandatemi pure i vostri progetti, e poi vediamo se si riescono, appunto, a farli, insieme, per cui, abbiamo tutto il posto per sviluppare i progetti, va bene? Arrivederci. Arrivederci. Grazie, grazie. Arrivederci.